È una giornata un po' fredda, un po' nebbiosa di gennaio, ma noi non ci preoccupiamo perché stiamo mangiando e respirando l'aria dell'estate. Un fieno biologico squisito, chilometro zero, seccato alla perfezione, il nostro fieno della fattoria. Polifita, poche leguminose, tante graminacee, molto buono. Nel nebbione dei recinti abbiamo un momento d'estate, un momento di estate in cui mangiamo del buon fieno e ci scaldiamo la pancina. Adesso i batteri, la flora, la flora naturale nell'intestino, indiserisce tutta la cellulosa di questo fieno, povero, un fieno magro, scalda la pancina di tutte e sei le asinelle. Così, pelo fuori, motore a combustione interna nell'intestino secco e in tutta la pancina e passiamo l'inverno che è una favola, in salute e in felicità e in benessere animale, tutte assieme. Ciao Sinotte!